Una raccolta firme per chiedere al sindaco di Firenze Dario Nardella di espropriare la farmacia Pitti in ragione del suo valore sociale. L'ha lanciata un comitato di cittadini del quartiere storico di Santo Spirito. Le firme saranno raccolte all'interno della farmacia stessa, in piazza San Felice e nella chiesa davanti. I residenti del quartiere temono che l'attività possa essere coinvolta in un processo di trasformazione edilizia che riguarda l'edificio all'interno del quale si trova e che potrebbe farla diventare la reception di una struttura ricettiva, hotel, suite in affitto o bed and breakfast. Giovanni Pallanti, già vice sindaco di Firenze negli anni 90 e portavoce del comitato, ha spiegato che la proliferazione dei bed and breakfast, le abitazioni a uso residenziale a disposizione solo dei soggiorni brevi dei turisti, stanno distruggendo il centro storico. Il comitato ha spiegato che la società proprietaria dell'immobile ha chiesto lo sfratto della farmacia e la magistratura ha stabilito che dovrà avvenire entro 12 mesi. Nei mesi scorsi, ha ricordato Pallanti, il sindaco è venuto a firmare l'appello per dire che la farmacia non si muove. Ora chiediamo al comune l'esproprio, un intervento concreto in questa città devastata dai turisti.